Da due anni che l'organizzazione dei sindacali stanno lavorando, in particolar modo la Guitla Sporti, poiché riteniamo che questa azienda, che è l'AMAT, ha una carenza di organico oltre 150 autisti. E quindi è stato necessario aprire una procedura di raffreddamento e quindi nella seconda fase, grazie anche al prefetto di Palermo e anche all'assessore Catania, si è riusciti momentaneamente entro settembre ad assumere temporaneamente 100 autisti più 41 meccanici in officina. E quindi le periferie fra l'altro sono emarginate e abbandonate. E chi deve venire a Palermo non viene perché sa che è impossibilitato con la caoticità del traffico. E quindi con la carenza di autisti che ne sono dovuti a mancare, ha penalizzato non solo la cittadinanza e i cittadini, ma anche questi lavoratori, che l'azienda ha investito sulla formazione e sulla sicurezza. Questa organizzazione si batterà finché questi lavoratori non vivranno per assistenza l'ismio o perlomeno per reddito di cittadinanza. Noi dobbiamo andare avanti finché la Sicilia si dia lavoro vero. È inaccettabile che un'azienda che compra autobus, grazie anche alle regioni, e che rimangono in rimessa gli autisti a casa e i cittadini ad aspettare ore nelle fermate. E non è un paese civile questo. Per cui io sono del parere che bisogna mettere ordine affinché le periferie siano collegate tutti e si diano servizio. Questo non lo si fa, tra l'altro ormai da dieci anni questa città non esce da questo letargo e quindi penalizza anche l'economia perché i negozi sono costretti a rimanere chiusi.